La paura, le grida, lo spavento, la tragedia sfiorata. L'autobus dirottato nell'Interland milanese dal senegalese Osseio Nussi, autista in servizio per le autoguidovie di Crema, stava per provocare una vera e propria strage. 51 il numero degli studenti all'interno del veicolo che hanno rischiato di perdere la vita. Questo increscioso episodio di cronaca ha dunque dato a tutti molto da riflettere sui modi e i termini in cui andrebbero fatte le assunzioni per i conducenti, sia per la loro sicurezza che soprattutto per quella di chi usufruisce del servizio. Innanzitutto va detto che Trieste Trasporti non utilizza personale in subaffido o in subappalto né per i servizi scolastici né per il normale servizio di trasporto pubblico locale e non fa ricorso a contratti di somministrazione. Quindi tutto il personale dipendente di Trieste Trasporti è direttamente assunto dall'azienda. Nella nostra città la Trieste Trasporti è dunque rigorosa e attenta nei metodi selettivi e come già detto da Michele Scozzai sarebbe assolutamente da escludere la possibilità di dare in gestione i mezzi al personale esterno. Tutto l'iter di selezione e di assunzione prevede un lungo e articolato percorso che consente di valutare sia il possesso di requisiti e capacità tecniche e professionali e sia quelle che sono le qualità, gli attributi caratteriali delle persone con una verifica delle attitudini anche psicologiche. Ciascuno di noi a partire naturalmente dai conducenti ha una grande responsabilità e la qualità del servizio è da sempre una priorità di Trieste Trasporti e la qualità del servizio è la qualità del servizio è la qualità del servizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.